Oggi faccio ingrazzare qualcuno, lo so, ma alla fine va bene così, no? Non si può sempre fare contenti tutti e non si possono fare delle cose che piacciono a tutti. Secondo questo video capirete tantissime cose e soprattutto capirete se effettivamente continuare a investire nel mercato americano possa essere solo una mega trappola per topi. Prima di tutto bentornati, spero che abbiate passato delle stupende vacanze e se non le avete ancora fatte e siete inviperiti, secondo me oggi mette il carico da 11, quello della briscola. Allora, ma veramente questo dice che investire nell'SP500 non conviene, anzi è una trappola? E questo ovviamente è in maniera dispregiativa. Allora, per le persone che non vogliono assolutamente imparare niente e si sentono di sapere tutto, vi do la risposta a breve, così se volete lasciate il video qui. Conviene ancora investire nell'SP500 per l'e-mio? Sì, perlomeno per ora, poi chissà. Il mio consiglio però è di stare fino alla fine di questo video perché facciamo delle considerazioni molto ma molto interessanti. Vediamo dei grafici e dei dati da far rizzare i capelli in testa per chi li abbia ancora, ovviamente. Io fortunatamente li ho. Anche perché non saranno le solite cose che si dicono su questi video, tipo sei concentrato in un solo paese, hai poca diversificazione, eccetera, 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 i video quelli che ti fanno due balun così, ma sarà veramente un video unico nel suo genere a mio parere. Io non credo di averlo mai visto qui su YouTube Italia, ma non l'ho visto neanche all'estero in inglese, mi sembra. Però se trovate qualcosa di simile, per favore fatemelo sapere che me lo guardo volentieri per approfondire. Per quelle persone che invece hanno un pensiero critico, voglia di mettersi in discussione, avere anche un'apertura mentale, come dicono in inglese, out of the box, seguitemi fino alla fine perché effettivamente la cosa è più complessa di quanto sembri. Per la realizzazione di questo video mi sono frusciato una buona parte delle ferie, per cui non siate d'accordo o no, apprezzerei veramente tanto un bel pollicione in su, perlomeno per l'impegno profuso e per avere passeggiato sull'orlo del divorzio. Gli Stati Uniti dominano il mondo e non ci sono altri modi per investire in maniera proficua, ma la nostra specie si evolve da circa 200.000 anni. Da circa 12.000 anni sono cominciati ad avvenire dei profondi cambiamenti culturali. Ora, senza andare all'età della pietra, è palese che le economie e gli imperi e i popoli si siano evoluti nelle epoche che sono passate. Ho preso in questo caso in considerazione e recuperato con qualche difficoltà i dati dall'anno 1000 prima di Cristo ai giorni nostri. Eh? Che lavorone! Ovviamente considerando che il concetto di prodotto interno lordo, PIL o GDP come si dice in inglese, e la sua misurazione sia impossibile da fare per epoche dove questo parametro non esisteva neanche nella mente delle persone, ma ovviamente si tratta solo di stime quelle che vado a portare, ma di stime che ho trovato essere considerevolmente costanti tra i vari grafici e articoli e comunque tutte le persone che hanno utilizzato questi parametri per fare appunto questi dati, è utilizzato per realizzare questo video. Per cui dati da prendere con le pinze sì, ma non troppo. Ho creato anche un mini file Excel con tre tab in cui ho messo questi dati. Nel primo tab ho fornito le prime tre economie per GDP da quella data, dal 1000 avanti Cristo. Poi nel secondo tab la più grande per il prodotto interno lordo ogni 10 anni a partire dal 1400 dopo Cristo, ad oggi ovviamente, e poi la borsa valori più grande dal 1602 dopo Cristo, anno in cui è nata la prima borsa valori, ovviamente i dati fino al 2023, i giorni nostri. I dati sono veramente interessanti, interessantissimi e devono farvi riflettere. Da quando i mercati americani dominano? Più o meno dall'inizio del 1900, per cui ad oggi circa 123 anni. Gli Stati Uniti sono nati il 4 luglio del 1776, quindi circa 124 anni prima. In tutto questi numeroni di migliaia e migliaia di anni relativamente giovani e da poco, in termini epocali, sulla cresta dell'onda. Ma non è stato sempre così, come vi dicevo. Partendo dall'anno 1000 prima di Cristo, la situazione è stata sempre in continua evoluzione, mai soffermandosi su una unica nazione. Anzi, a dirla tutta, come vedremo nelle varie immagini, nei vari dati e nei vari file Excel, un player dominante dall'anno 1000 in poi c'è sempre stato, dall'anno 1000 prima di Cristo ovviamente, ed è sempre quasi stato presente in tutte le classifiche, se non al primo posto, comunque nelle prime tre. E si tratta della Cina, seguita in quanto presenza quasi costante dall'India e a impatto minore anche dall'aria persiana della Persia. Questo non significa che le stesse posizioni saranno sempre dominate dagli stessi player, anche perché in alcuni casi si è trattato di dinastie che si sono susseguite, ma forse potrebbe significare un paio di cose, cioè che si possa parlare di una certa mentalità di popolo o comunque di un retaggio culturale che va a tendere verso il commercio. Ad esempio, partendo dal foglio Excel, nel primo foglio, nel primo tab dell'Excel che ho creato, si può vedere come la Cina, nelle varie dinastie, abbia perso il suo primato dell'essere l'aria con un maggiore PIL solo due o tre volte e come si sia trovata in ogni caso nelle prime tre posizioni per la maggior parte del tempo, nei millenni. A breve vi mostro anche due grafici che vi faranno veramente impazzire e pensare che investire nel mercato USA sia la cosa più sbagliata da fare. Ma facciamo le cose con calma. Infatti, se guardiamo alla era che possiamo definire moderna, e per cui poco prima della scoperta del continente americano, possiamo vedere come dal 1400 il discorso cambia di ben poco. Infatti, sul secondo tab, sulla lista che ho compilato per la seconda pagina del file, dal 1400 d.C. fino agli albori del 1800, le varie dinastie cinesi hanno sempre dominato il contesto di grandezza economica mondiale. Per essere poi soppiantata poco dopo dall'impero ottomano e successivamente solo dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America dai primi del 1900 ai giorni nostri, però comunque in un arco temporale molto più stretto rispetto a quello che ha fatto la Cina. Ultimo tab, ultimo parametro che vi voglio mostrare nel file Excel, prima di andare a discutere le immagini che vi faranno fare boom con la testa, sono quelle relative alle borse valori più grandi in termini di volume di massa monetaria scambiata. Infatti, dal 1602, anno 1602, in cui la prima borsa valori è stata creata e nata nei Paesi Bassi, successivamente la Cina ha comunque sempre avuto volumi molto importanti, ma per meno tempo rispetto alla sua importanza per prodotto interno lordo mondiale. Poi dalla metà del 1800 al 1852 circa, ai giorni nostri, è stata soppiantata prima dal Regno Unito e poi dagli Stati Uniti d'America. Secondo me questi dati sono molto interessanti perché nella nostra testa possiamo sempre pensare che oramai il tempo della Cina sia finito e che per cui i paesi occidentali siano ormai quelli che domineranno il futuro, ma voglio farvi spaventare con un paio di immagini e farvi ricredere su questa vostra credenza. In questa prima immagine possiamo vedere i dati che vanno dall'anno 1 d.C. fino al 2017 in cui si mostra in maniera grafica quella che è l'evoluzione del prodotto interno lordo nel tempo per i vari blocchi. Una spiegazione che si può dare a quest'altra immagine dove si vede che il PIL del mondo è adatto a impennare solo in un determinato periodo e che per migliaia di anni il progresso economico è stato in gran parte lineare è legato alla crescita demografica. Senza macchine o innovazioni tecnologiche una persona poteva produrre solo una quantità limitata con il proprio tempo e le proprie risorse. Però più recentemente e principalmente, come si vede anche dal grafico, dalla rivoluzione industriale, le innovazioni della tecnologia e anche nel comparto energetico hanno permesso di attuare un picco verso l'alto proprio dovuto appunto dal 1800 in poi e che, come dicono effettivamente le varie ipotesi, questa secondo me potrebbe essere quella più corretta che spiega appunto questo picco, questa partenza verso l'alto. Questo è accaduto per la prima volta nell'Europa occidentale e in Nord America e ora sta avvenendo anche in altre parti del mondo. Con il livellamento che ci sta nel campo tecnologico, economie come la Cina e l'India, tradizionalmente le due economie più grandi della storia, stanno ora facendo a mio parere un grande ritorno che nel lungo periodo possono andare a soppiantare quelle che noi conosciamo come essere le economie più importanti, che possiamo definire ovviamente come Stati Uniti, Regno Unito, Germania, blocco dell'UE e così via, ma che sono grandi solo perché le stiamo vedendo noi in questo particolare momento epocale, in questo particolare momento storico. In questi due ultimi grafici che vi faccio vedere solo per spaventarvi ancora di più, quello che si vede è che gli Stati Uniti dal 1950 ad oggi stanno vedendo una riduzione costante e continua dell'incidenza del loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo mondiale, soppiantando dal primo posto, essendo soppiantata dal primo posto da altre nazioni. Questo lento erodersi va soprattutto a vantaggio di Cina, ma anche di India e potrebbe dirci che un cambio di tendenza prima o poi avverrà. Ma questo cosa significa? Che da quello che vediamo da dati e immagini, questo non sarà una cosa eterna perché nei secoli, come abbiamo visto, le cose tendono sempre a cambiare. Da notare che già nel 2015 le proiezioni del PIL elaborate per il 2050 da Price Waterhouse Cooper indicavano che i cambiamenti ancora più significativi potrebbero essere in arrivo. Price Waterhouse prevedeva che la Cina nel 2050 avrà un PIL di 61 trilioni di dollari e si prevedeva anche nel 2015 che l'India sarebbe andata a recuperare il suo precedente secondo posto con 42 trilioni di dollari appena davanti agli Stati Uniti che si dovrebbero fermare a 41 trilioni di dollari. Poi ci sono i membri del PRIX che andrebbero a entrare in questa classifica con l'Indianese e Brasile che sarebbero rispettivamente al quarto e al quinto posto, mentre la Russia dei BRICS sarebbe dovuta essere all'ottavo posto nel 2050, cosa che potrebbe anche non essere così visto che c'è questa crisi russa-ucraina in corso. Quindi si tratta di un momento molto difficile. Poi si pensa che Messico e Giappone andrebbero a seguire Brasile con Nigeria e Germania a completare la top 10. Pensate che pure la Nigeria andrebbe a superare l'Italia, ma dico io. Comunque se PWC avesse ragione la dominanza della Cina e delle Stati Uniti assieme potrebbe essere soppiantata dalla storica coppia dominante che è Cina invece con l'India. Naturalmente nessuno sa queste cose con certezza. Prevedere l'economia è inutile, impossibile e dire che se lo si possa fare a mio parere è molto stupido. Questo è un processo che potrebbe avere un'impennata virtuosa verso l'alto magari a breve nei prossimi anni o più possibilmente potrebbe richiedere decine se non centinele di anni ed io non ho la palla di cristallo per prevederlo né tantomeno anni rimasti di vita a mio parere per poter vedere un cambio sostanziale del comparto economico e del bilanciamento economico a livello mondiale. Ma spero che questo video vi abbia aiutato a riflettere che bisogna sempre pensare al di fuori degli schemi comuni per poter comprendere non solo la finanza e gli investimenti ma tutto nella vita. Per concludere questa pappardella, conviene investire negli Stati Uniti? La risposta breve è che a mio parere è assolutamente sì. La risposta complessa, sempre a mio parere, che conviene anche cominciare a piazzare delle piccole idee satellite di investimento su nazioni che sono in fase di cambiare il vento dell'economia mondiale o magari ancora più semplicemente potrebbe essere un'idea a considerare per molti di noi di andare a investire su un ETF all country world dove quello che ora è un paese emergente sicuramente diverrà in futuro un paese sviluppato e questo sarà semplicemente bilanciato all'interno del fondo. Ma queste sono solo delle mie semplici considerazioni. Ma voi cosa ne pensate? Ah, a proposito, tutti i link che ho usato per la stesura di questo video vi potete trovare nella descrizione dello stesso nel caso voleste andare a approfondire le letture che ho fatto io per conto vostro. In realtà poca roba, sono solo 5 o 6, ma ne vale la pena secondo me darci un occhio per approfondire in piena autonomia. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento e in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Bene, io ti saluto e ci vediamo a un prossimo video. A presto!